Ho notato due giocatori, Signorini e Bonaventura, che da soli, uno fa reparto e l'altro con la corsa che ha sulla destra, ci sta mettendo in difficoltà. Attenzione, intanto Signorini, proprio che mette in mezzo il pallone, Arlotti, il gol del Ribini! Gol del Ribini con Arlotti, che va a fulminare Lani, questa volta nulla avrebbe potuto. Lani al cospetto di questa battuta di Arlotti, al quarantatresimo, quindi il Ribini si porta in vantaggio con Scott Arlotti. Grande gol, ancora una volta, grande iniziativa, Sindaco se ne intende, di Signorini.